L'andamento dei mercati finanziari nei primi tre mesi del 2021. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Come ad ogni fine trimestre, facciamo il punto sull'andamento dei mercati finanziari e dei vari asset. Valutiamo l'andamento dei primi tre mesi del 2021, partendo dai mercati azionari. In Europa il Fuzi Mib ha chiuso a più 11,14, il DAX Francoforte più 10, CAC Parigi più 9,94, il Fuzi 100 a Londra più 4,28, l'Ibex a Madrid più 6,25, lo Smi a Zurigo più 3,87. Quindi sostanzialmente tutta Europa è in segno positivo. Negli Stati Uniti Dow Jones ha più 8,17, Nasdaq più 4,30, Standard & Poor's 500 più 6,63. Il Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici, ha avuto un andamento positivo, ma inferiore a quello che è il resto del mercato, anche perché ricordiamo che i titoli tecnologici vengono da performance nettamente positive nel corso del 2020. In Asia il Nikkei ha chiuso a più 7,09, Shanghai in Cina meno 0,19, Langsang a Hong Kong più 6,27, il Cospi in Corea più 7,45. In Asia la Cina è l'unica che ha sofferto un pochino, quindi sostanzialmente invariata rispetto a inizio anno, ma che comunque vale un po' il discorso anche fatto per il Nasdaq, anche la Cina viene da rendimenti sensibilmente positivi nel 2020. Arriviamo alle materie prime. Il petrolio chiude a un più 23% da inizio anno, di contro l'oro è a meno 8,8%, l'argento meno 6%, il rame più 13%, il platino più 12% per elencare le principali. E qui analizziamo quella che è la differenza e inversamente proporzionale, come del resto accade sempre, tra l'andamento del petrolio e quello dell'oro. Nel 2020 veniva da un anno positivo l'oro, di contro il petrolio, quando le economie iniziano a ripartire e si inizia un processo produttivo regolare, è chiaro che ancora il petrolio è la materia prima che utilizziamo per la produzione di energia e quindi è chiaro che riattivandosi tutto il processo industriale è quella che poi riesce ad avere anche dei maggiori rialzi. Ora arriviamo a quello che è l'andamento dell'euro rispetto alle altre valute estere. Rispetto al dollaro dall'inizio dell'anno perde il 3,7%, negativo anche verso la sterlina meno 4,9%, invece è positivo verso lo yen più 3,1% e verso il franco svizzero più 2,4%. Adesso arriviamo a quelli che sono gli andamenti della maggior parte degli indici obbligazionari. Questo soprattutto anche per far capire quanta è l'inversione di tendenza tra gli asset cosiddetti rischiosi azionari e tutto ciò che riguarda il mondo obbligazionario. È chiaro che come abbiamo detto in un'epoca di rendimenti negativi e con i tassi di interesse che solo negli Stati Uniti stanno leggermente risalendo, tutto il comparto obbligazionario che aveva raggiunto dei massimi a livello di prezzi sta subendo in questi tre mesi un andamento negativo. L'indice globale dei titoli obbligazionari governativi, cioè degli Stati, dall'inizio dell'anno è meno 5,19%. Per quanto riguarda invece i titoli governativi europei, meno 2,34%. L'andamento dei titoli statunitensi è meno 4,16%. Arrivando ora a quello che è l'indice delle obbligazioni aziendali, cioè corporate, perde lo 0,68%, mentre a livello globale è meno 4,24%. Nel mercato a yield, cioè le obbligazioni ad alto rendimento, l'indice obbligazionario globale perde l'1%, mentre è positivo, più 1,26%, l'indice delle obbligazioni a yield area euro, quelle obbligazioni delle società che hanno un rating non particolarmente elevato. Arrivando agli indici obbligazionari dei paesi emergenti, le obbligazioni dei paesi emergenti in valuta forte, cioè in dollari, perde il 3,66%, mentre quello in valuta locale, cioè nella valuta di riferimento del paese, perde il 3,76% da inizio anno. E quindi, come potete verificare, sono tutti negativi gli indici obbligazionari. Di conseguenza arriviamo anche ad analizzare quello che è il rendimento dei titoli di Stato dei principali paesi e dell'Italia, e per avere ben presente quella che è la situazione del mondo obbligazionario in questo momento. In Italia, un bot a tre mesi rende meno 0,54%, a sei mesi meno 0,50%, a dodici mesi meno 0,45%. Rimanendo sempre sui titoli di Stato italiani, un BTP a due anni rende meno 0,41%, a cinque anni meno 0,03%. Per arrivare a un rendimento positivo dobbiamo andare sulla scadenza di dieci anni a più 0,63% e a trent'anni a più 1,62%. In Germania, per fare un raffronto, il Bund a dieci anni, cioè il titolo di Stato tedesco, rende meno 0,33% e addirittura a trent'anni più 0,22%. Sono rendimenti lordi annui. Questo è bene averlo ben presente. Mentre negli Stati Uniti, dove stiamo verificando quello che è un leggero rialzo sui tassi di interesse, un titolo di Stato americano a due anni rende più 0,15%, a cinque anni più 0,89%, a dieci anni più 1,67%, a trent'anni più 2,34%. Come abbiamo detto molte volte, siamo di fronte a un cambiamento epocale di quello che è il nostro approccio sugli investimenti, sia sul mercato azionario, sia sul mercato obbligazionario. La citazione di oggi è la seguente. Se gli esperti della borsa fossero veri esperti, comprerebbero azioni invece che offrire consulenze. Norman Augustin Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto.